Ah, ok, mi ricordo un po'. Non sono proprio dog shit, allora. Dopo tre mesi, almeno vi ricordo. Si vede che questo qua era il mio gioco, va. Mi flippano gli occhi, però va bene. Ho tipo gli occhi incrociati in questo momento. Holy shit! Ragazzoli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Un video decisamente inaspettato, ma che sicuramente aspettavate da molto, molto tempo. Mi avete spammato i direct su Instagram ogni giorno, commentavate sotto i video di YouTube Martina, quando porti Fortnite? Mi spammavate persino i live streaming su Twitch ogni giorno, chiedendomi di quando avrei riportato Fortnite. Ebbene sì, ragazzi, questo giorno è finalmente arrivato ed è proprio ora, in questo momento. Principalmente, ragazzi, sapete che ho smesso di giocare su Fortnite da circa tre mesi. Il gioco in quel momento non mi divertiva e mi stavo concentrando più su altro per quanto riguarda comunque le mie live streaming. E oggi ho deciso di ritornare a provare Fortnite per vedere se effettivamente il gioco potesse nuovamente ripiacermi. E quindi ho deciso appunto di provarlo. Devo dire che la prima esperienza di gioco è stata sicuramente positiva perché mi sono divertita davvero tanto e ho visto molti di voi che eravate in streaming molto contenti dal mio, appunto, del mio ritorno su Fortnite. Mi è piaciuto davvero tanto ritornare e sicuramente continuerò a portarvi contenuti di Fortnite sia su YouTube ma anche su Twitch. Infatti, se vorrete vedere le mie live su Twitch di Fortnite, vi aspetto in live tutti i giorni dalle 10 del mattino in poi. Continuerò ovviamente a portare i contenuti di Valorant anche su YouTube perché Valorant è un gioco molto molto interessante che a me personalmente piace. Mentre per il live streaming mi troverete la mattina appunto su Fortnite e la sera su Valorant. Io spero che questo ritorno sia davvero ben voluto da tutti quanti voi e sono sicura che sia così perché me lo spammavate tutti i giorni. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete felici, se siete infelici. Spammate il video di like, condividetelo con i vostri amici. Quindi sì ragazzi, ecco il mio ritorno ufficiale. Vedetevi questo video e buona visione ragazzi. CrazyTurk007. Cosa cazzo hai spingato? Che cos'è? A serio? Viene andata dal grotto? Mi ha chiesto se è una ragazza? Aia! Provolore spottato ragazzi! Provolore spottato ragazzi! How old are you? Ehm... Seventeen? Seventeen? Yeah. Shaker? Mi dissocio! Mi dissocio! Mi dissocio! Hai un secco? Buongiorno rega, questo si chiama! Buongiorno rega, questo si... Oh! Buongiorno rega ragazzi! Ehm... Thank you all of them, yes. Let's go! I'm not going to call to this! You're very good! Good job! For how long you've been playing Fortnite? Season 7? And you? How many years? Sorry! I started in season 7. Oh season 7, ok! And when you start? I started in season 1, but I took a 3 months break. So I'll just go back, like, today. You're still good! Thank you! I mean, yeah, I've been playing for many years, so... Cioè, vorrei... vorrei creare una conversazione cringe, però non so se sono pronta. Non so se sono pronta, ragazzi. Maybe have a mini? Ehm, yeah, I have one. Perfect. Take it. No problem. So... Do you work? Do you study? What do you do? Ehm, work or study? Oh, nice! And you? Ehm... I just work. I don't study. I mean, I'm almost 25, so... Oh... What's your job? My job? Yeah. I don't think it's a job as a streamer. It's not a job. Ehm... I basically... So... I don't... At McDonald's. Oh, nice. Non sopevo che dirgli! Non sopevo che dirgli! Mi dissociano! Non sopevo che dirgli! Non sopevo che dirgli, ragazzi! Mi dissociano! Non sopevo cosa dire! Non sopevo cosa dire! Sto sudando, ragazzi! Non potevo dire che faccio la streamer. Lo streamer non è un lavoro, a quanto pare. Devo... Devo cercare di... Di conquistarlo, però devo andarci piano. Oh, yeah. Yeah, c'è chest. That's happened. Oh, that's nice. We're together on the helicopter. We're there. Ha ha ha! I got one. Ma che c***o succede? Aiuto! Basta! Quanti elicotteri ci sono! Aiuto! Ma che ne è? GTA! GTA San Andreas è diventato... Da Fortnite a GTA in un secondo, ragazzi! Oh, there are few people... No, please help me. I don't wanna die. Please, please, rest me. Thank you. I don't wanna be in... Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ragazzi... Nonono, 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 nonono... Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. I dissocio myself. Oh, no! They're shooting me. Hai capito a che appartengo? Yeah, agora. I'm, agora. Hai capito la mia appartenenza? Oh, yeah, we need to go. I'll follow you. oh nice you're very good good job boostiamogli legua ragazzi boostiamogli lega a questa ragazza oh what is i have five kills oh one more that's not so bad i guess oh i got him oh an helicopter helicopter nice you wanna get them okay okay let's go let's go let's go i'm gonna fight him i'm going on his face no 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 let's go Do you have a mini ammo for minigun? Yeah, I have it. Only because of you. There you go. Such a good squad, oh my god. Yeah, we are. So, do you have like a girlfriend or a boyfriend? No, no. It's confusing, guys. And you don't add me for friends. Oh, wait, I didn't? Wait, wait, I actually send a request. I'll try again, wait, I'm gonna box up. Protect me, okay? I tried to add you, but you have too many friends. Really? I have too many friends, but it's not true. What do you say? I'm only at the cap. Do you know what... Oh, no, man. Oh, sorry. Do you know what Paul C. Freddy is? Do you know it? Nope. Paul C. Freddy. Never heard for that. Oh, okay, you never heard, okay. It's what I'm feeling right now. But it's fine. What's that? Oh, my shot at the atomic gun. I don't use it as a R. What are you doing? I'm going to destroy this kid. Hello, ma... Ma come cammina questo? Wee, brother! Everything goes! Got him! Let's go! No, 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 no. Let's go! Oh, there's a map. I think we can hit the map. Let's go push them. And we win. If we can hit the map, guys, I don't know. I don't know. If we can hit the map. If we can hit the map, I don't know. Oh, we can hit the map. Oh! Let's go! If we can hit the map, we can hit them. Oh! Oh, shit! I hit him? YOLO! Come on, last one, last one! We can win, we can win, we can win! Let's go! Good job! You're very good! I'm gonna hug you, okay? I'm gonna accept the request, okay? Non mi caga più, forse non funziona più la certa vocale. Ci stiamo, ragazzi! Mega ritorno! Con il ragazzo inglese! Ma quante ne aveva, raga, che non ricordo?